scusi buon uomo mi sentire l'ora per favore e 5 e 35 ma è sicuro e 36 grazie prego ha mangiato il ciuchino eh? no senta mi sentite che ora sono adesso? androta le 7 e un quarto ma sono le 7 e un quarto spacchiamo incredibile ma lei come fa? a leggere l'ora nelle palle del ciuchino scusi no io le arzo sotto c'è il campanile vedi già vedi 7 e un quarto